Alla mia destra l'organizzatrice di questo convegno, la senatrice Sabrina Ricciardi, membro della Commissione, non a caso, Politiche dell'Unione Europea, Commissione di Vigilanza RAI e della Commissione Lavori Pubblici e Comunicazione. Senatrice, uscire dalla crisi economica mediante la sovranità fiscale, un po' il tema, l'oggetto del suo intervento. Prego. Grazie, buonasera e grazie a tutti per essere qua. Allora, io rispondo immediatamente, io ho sempre ritenuto che il futuro sia in Europa e non a caso, appena sono stata eletta senatrice, io come prima Commissione ho scelto Politiche dell'Unione Europea, però ritengo anche necessario, indispensabile, evidenziare le criticità del sogno europeo, nel senso che le criticità e i limiti necessitano comunque di un attento dibattito di cui noi portavoci dobbiamo comunque farci promotori. Ad esempio oggi siamo qui per questo motivo. Questo in realtà è il secondo incontro pubblico che noi facciamo sull'argomento. Ne abbiamo già fatto uno qualche mese fa, dove invece abbiamo evidenziato le opacità di un sistema internazionale che è appannaggio di un'elite finanziaria che tutto questo a danno comunque dei popoli e quindi non a tutela della popolazione. Oggi invece noi vogliamo mettere in chiaro quali sono le cause e le conseguenze della crisi economica, ma soprattutto mettiamo sul tavolo delle proposte, proposte concrete per uscire da questa crisi per durante. Infatti durante l'incontro illustreremo delle soluzioni, delle plausibili soluzioni che possono essere attuate proprio per uscire da questa crisi. Il tutto ovviamente però sempre nel rispetto dei trattati europei e anche della nostra legislazione. Ora, fatta questa promessa, volevo riflettere insieme a voi su quella che è l'entità del nostro debito pubblico. Debito pubblico che attanaglia il nostro Stato, che non gli permette di fare investimenti, di poter utilizzare una politica economica che possa aiutare e sviluppare la nostra economia. Partirei, mi viene in mente, un'affermazione della Boston Consulting Group, che è la più grande multinazionale finanziaria del nostro pianeta. In un recente studio che si intitola Back to Mesopotamia, ha affermato che la somma del debito privato e del debito pubblico è troppo grande per essere ripagata. A quanto ammonta il nostro debito, quello pubblico ha circa 2.300 miliardi, di cui 70 sono di soli interessi. Pensate che in 30 anni abbiamo pagato 3.000 miliardi di interessi, più quindi del debito stesso. Una follia. Gli interessi sul debito privato sono pari a 130 miliardi. Il debito privato è quello che viene richiesto alle banche, a una finanziaria, un mutuo chiesto da una famiglia. Se facciamo la somma, 70 più 130 arriviamo a 200 miliardi, che sono più di un decimo del nostro PIL, che è pari a 1.700 miliardi. Il rapporto debito PIL attualmente è al 135%, nel 2007 era pari al 103%, nel frattempo c'è stata una politica di austerity che parla da sola, che ovviamente non ha trovato la soluzione. Evidentemente bisogna agire con qualche correttivo. Noi siamo qui proprio per questo. Prima di però entrare nel vivo delle argomentazioni, io farei una piccola analisi della genesi della nostra crisi, della nostra crisi economica. Non è il debito la causa della crisi, ma è la crisi che genera un debito elevato. La causa della nostra crisi economica è che non c'è denaro in circolazione, cioè non c'è denaro a disposizione delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese. La situazione è paradossale perché spesso, quasi sempre, succede, e lo possiamo vedere quotidianamente, gli stipendiati non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Invece ogni giorno nei mercati finanziari circolano miliardi di euro, dove guadagnano soltanto gli speculatori e tutto questo ha i danni dei cittadini e degli stati, in questo caso ha i danni delle popolazioni, del popolo italiano. Tutto questo succede senza che nessuno alzi un dito, anzi tutt'altro. Addirittura l'atteggiamento è di chi avalla tale sistema. Vi faccio un esempio. Nel regolamento di Basile è previsto che una banca, un istituto bancario, può prestare, può finanziare 100 euro ad un'impresa, ma deve accantonare del suo patrimonio bancario 8 euro. Se invece acquistasse dei titoli di questa stessa impresa, dovrebbe accantonare solo il 4,5%. Se acquistasse derivati ancora di meno, va da sé che il sistema tende a spingere il mondo bancario verso i mercati finanziari e allontana i cittadini da un facile accesso al credito. Abbiamo detto che l'origine della crisi economica è la mancanza di denaro in circolazione, cioè nell'economia reale. Chi sono? Chi può in realtà immettere denaro nell'economia? Quindi chi crea il denaro? Gli attori principali sono due. Uno è il sistema bancario e l'altro è lo Stato. Il nostro sistema bancario italiano ha purtroppo conosciuto un inesorabile processo di privatizzazione. Infatti attualmente noi non siamo in grado di controllare l'esercizio del credito bancario nell'economia. Non a caso noi nel contratto di governo abbiamo previsto un capitolo in cui prevediamo di costituire una banca pubblica per gli investimenti e una per il risparmio. Non abbiamo fatto altro che mutuare l'esperienza e l'esempio tedesco, dove più del 50% del sistema bancario è pubblico, a riprova che loro tendono a favorire l'economia reale e non quella finanziaria. Il secondo attore abbiamo detto che è lo Stato, Stato che in luogo di una riduzione del credito erogato dalle banche potrebbe tranquillamente mettere moneta in quanto titolare di sovranità monetaria esenti dell'articolo 117 della nostra Costituzione. Ma è successo che la titolarità è stata trasferita alla BCE. La BCE è diventata esclusivista nelle emissioni di banconote. Ma attenzione c'è un passaggio importante perché le banconote che le BCE possono emettere vengono girate alle banche che abbiamo detto essere private e le banche a loro volta le mettono nella nostra economia reale, però a un determinato tasso di interesse. Quindi che cosa successe? Quando le monete in circolazione, il denaro che circola deve essere restituito, bisogna pagare anche il tasso di interesse, va da sé che il debito aumenta. E quindi a questo punto la domanda sorge spontanea e ci siamo chiesti ma lo Stato a questo punto che cosa può fare? Prima di tutto come ho detto in premessa può sicuramente adoperare quello che è la sovranità fiscale, recuperare questa sovranità fiscale, a differenza di quella monetaria, non è appannaggio dell'Unione europea. L'articolo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non prevede questa delega. Di conseguenza nessuno può vietare l'utilizzo della sovranità fiscale per creare una liquidità alternativa che può costituire una boccata d'ossigeno per la nostra economia, quindi può favorire lo sviluppo economico. Quindi per uscire dalla crisi economica e rendere più stabile il sistema bancario e anche quello finanziario è necessario che gli Stati ricominciano ad usare la loro sovranità fiscale. Ecco, ed è questo il motivo dell'esigenza di questo convegno, cioè presentare delle proposte innovative di politica fiscale e proposte che sono finalizzate a mettere un punto allo strapotere del mondo finanziario e gli spunti che tra poco sentirete sono il frutto di un lavoro di squadra tra deputati e senatori che hanno un unico desiderio, quello del rispetto dell'articolo 1 della Costituzione che recita che la sovranità è del popolo, che l'esercita nei limiti e nei formi della nostra Costituzione. Grazie. I ringraziamenti non potevano che pervenire dalla senatrice Sabrina Ricciardi. Va benissimo. Allora, grazie per essere stati qui ad ascoltare questo che in realtà è una modalità un po' innovativa perché è quello che proviamo a fare. Il cambiamento parte anche sperimentando nuove modalità che necessitano però di un dibattito, di quello che abbiamo incontrato noi oggi qui. L'obiettivo poi successivo è comunque quello di costruire, costruire un percorso che può aiutarci, anzi che ci farà uscire dalla crisi. Io vi ringrazio, ringrazio tutti i miei colleghi. Scusate se andiamo, veniamo, corriamo. Purtroppo siamo in aula e ora dobbiamo rientrare. Grazie a tutti.